Una nuova opera italiana di Ming Wong, girata all'ombra del Vesuvio di Napoli, un film ispirato al capolavoro di Pier Paolo Pasolini. E' la storia di una famiglia italiana, il padre, la mamma. Il figlio, la figlia, la domestica. Le loro vite saranno irreparabilmente sconvolte dall'arrivo di un misterioso e affascinante straniero. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. Devo partire domani. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. segna indalebilmente la famiglia. Nulla sarà più come prima. I cinque si spingono al confine di se stessi, alla ricerca di una nuova identità. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. E' la storia di un misterioso e affascinante straniero. veicoli nonência straniero palmundomu Hate... se ts' non si fai scop counternamori... Ah! Oh, tanto stopping... ah! Hai sì eh Hahahaha! Che padre! Ming Wong, Vigittorio delle menzioni d'honore alla Biennale di Venezia 2009, ancora una volta in un'incredibile prova èнаorialle. nei panni di tutti i personaggi. Un squadro straniante sulla cultura italiana, un viaggio nella storia del cinema, che riporta in vita lo spirito di Pasolini. Un squadro straniante sulla cultura italiana, un squadro straniante sulla cultura italiana,